Siamo con Capogna della Virtus Cisterna, una mattinata sicuramente bella, piacevole per l'intensità con cui la vostra squadra ha giocato. Diciamo che comunque questo torneo sta riuscendo perfettamente, anche nella vostra categoria di 2003. Sì, grazie innanzitutto all'organizzazione Moschetta e Roberto Martin. Ci sono bambini di spessore tecnico elevato sicuramente, bambini meno bravi, ma questo a noi sinceramente non interessa. Il divertimento è la cosa assicurata di tutte le partite che giornalmente vengono eseguite. Il divertimento è la base principale e il tutto sta riuscendo alla perfezione.